Buongiorno a tutti sono Paola Mogliotti di I3P l'incubatore del Politecnico di Torino e vi parlo a nome dei quattro soggetti attuatori coinvolti nel progetto Innometro promosso dalla città metropolitana di Torino. I quattro attuatori sono I3P, 2I3T l'incubatore dell'Università di Torino, la società Soges e Bio Industry Park Silvano Fumero di Colleretto Giacosa. Siamo a vostra disposizione per trasformare i vostri progetti di innovazione in realtà. Siamo a disposizione per fornirvi il supporto per individuare i vostri bisogni di tecnologia, i fornitori che possono fornirvi le tecnologie necessarie e individuare il progetto completo per trasformare quella che è una necessità di innovazione in realtà.